Ormai siamo qua da un mese che siamo partiti, abbiamo montato un campo 1 a 5.800, adesso da lì c'è la parete, spero di dover solo passare una volta per quella parete, dobbiamo acclimatarci bene ora, abbiamo anche preso i consigli da Kurt Inberger, oggi ci riposiamo e poi nei prossimi giorni vediamo, speriamo un bel tempo e forza e coraggio. Siamo qua al campo base Michele, com'è andata finora? Ma finora abbastanza bene, siamo riusciti a sorpassare questo pilastro di roccia di 800 metri, attrezzare il campo 1 intorno ai 5.900-6.000 metri, oggi giornata di riposo, ha nevicato un 40 cm ieri, la parete non sembra male, adesso vedremo nei prossimi giorni e speriamo nel bel tempo. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. La pala l'avete lasciata dentro o fuori? Dov'è la pala? La pala l'avete lasciata dentro? La pala l'avete lasciata dentro? La pala l'avete lasciata dentro? La pala? La pala? La pala l'avete lasciata dentro? La pala. Grazie a tutti. Grazie. 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 Ecco la cima del G2. Si inchiangono. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.